Luigi Margarucci, proprietario del bar Soul Friend Café, situato nella piazzetta di Agnone Cilento, ha avuto la concessione di maniale per realizzare, data l'assenza di una guardia medica, una casetta di primo soccorso aperta H24. All'interno della casetta opereranno ben cinque bagnini che, in caso di necessità, si adopereranno a fare manovre di primo soccorso. All'interno del presidio è presente un defibrillatore, bombole di ossigeno e diverso materiale medico, utile alle manovre di primo soccorso. È stato chiesto, inoltre, all'amministrazione comunale, che non si è ancora attivata però su questo punto, la presenza di una figura medica. Luigi, lo scorso anno, ha realizzato anche il progetto delle due sedie job per i disabili, utili per facilitare il tratto spiaggia mare. Se richieste, le sedie verranno prestate anche al resto delle spiagge del paese. Questi progetti daranno sicuramente la possibilità ai bagnanti e villeggianti di vivere un'estate sicura. Quanto previsto dal regolamento comunale per il cosiddetto piano spiaggia e quindi il bando per le concessioni della Capitaneria di Porto per la Sicurezza, il Lido sicuramente più attento a quanto richiesto dal Comune per offrire servizi ai nostri ospiti è il Soul Friend Café, che si attrezza su questo punto con servizi anche per i disabili e quindi rende la sua attività sempre più efficiente e ospitale, dichiara Pasquale Tarallo, ex vice sindaco del Comune di Montecorice, in merito all'importante iniziativa.